Ascensori Tortorella La revisione gratuita e la revisione a tutti i veicoli con portata massima di 35 quintali Auto, moto, quad, ciclomotori, motocarri Prenotali allo 080 474 49 89 O chiama il 340 94 84 158 Nuovo centro revisioni di Palazzo Giovanni Via Martiri di Marzabotto 2 Alla Sciala delle Cozze a Mola di Bari Non ci dicono qual è la data che bisogna dire Però noi eliminiamo Soprattutto non siamo soltanto quando ci fanno conto E quindi ci fanno niente Speramente da a tutti Il nostro progetto come è la Voluntari Che finisce Donali con il concetto di musica africana E poi ci farà un premio con il Polignano Che è in settembre Con una notte che siate in un'opera Quindi intanto Con la terapia per avanti Il gruppo di Soprima Sciala Un gruppo Applausi E diciamo che le immagini Queste immagini che abbiamo visto Ci hanno fatto tutto il crime di portare Quando gli avanity Sono subiti E molto E molto Li pari E brucibano Da situazioni Di E Quindi In amico con il video l'abbiamo fatto anche, questa storia che ci è, che ci ha portato molto da così, è un gruppo che noi abbiamo trovato, lo dicevo a loro, veramente per tanto, perché il titolo, anche una cosa che io poi voglio chiedere pure al loro, ma la voglio, intendo, il titolo è sotto a Marcellà il nome del gruppo, che è il nome di una nonna armanente, e quindi un gruppo fatto con i due nomi, però anche una donna, una donna armanente, una eroina che è combattuta per la libertà del corso dell'armania, per tutti, e traventita da uomo, perché alle donne non era consentito di partecipare alle venti di guerra, traventita da uomo accanto al marito, ha lottato per l'indipendenza del corso, e pare che poi in realtà era una donna così comoda, che in realtà era anche avvenenata, perché aveva avvenenamento da parte del re, diciamo, dei tanti nomi. E quindi, noi come gruppo di tanti, di tanti nomi, di tanti nomi, abbiamo indossato questa donna, e anche adesso questo nome, poi abbiamo indossato anche loro, che non conoscevamo, e che, da me, abbiamo molto conto, di conoscere a fondo. Grazie, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.